La guerra dei rossi nasce dall'esigenza di raccontare. Io penso che per un avvocato sia molto importante parlare della propria vita, della propria bottega, delle tagerie che tocca con mano. L'ho sempre fatto anche con gli altri libri. E il Covid, la pandemia, è indubbiamente stata l'occasione per riflettere su tante questioni. Chi è l'avvocato? Qual è il suo ruolo nella società? Chi è il bravo avvocato? E soprattutto qual è l'approccio dell'avvocato rispetto a delle tragedie in un periodo difficile come questo, in cui le coppie sono state chiuse per mesi all'interno di appartamenti anche piccoli e in cui è successo di tutto. Quindi ho raccontato il nuovo modo di essere avvocato. Ho raccontato le volte che sono stato davanti ai supermercati a parlare con le donne maltrattate, a raccogliere le loro confessioni. Non avrei potuto contattarle a casa, magari, alla presenza di un compagno o di un marito violento. Ma ho parlato anche di una crisi profonda, non soltanto della coppia, ma anche tra genitori e figli. Anche di madri abbandoniche, di padri completamente disimpegnati dal loro ruolo. Ho parlato di omofobia familiare, insomma, di tutte quelle declinazioni della violenza intrafamiliare che francamente ci lasciano sconcertati, perché purtroppo la violenza in famiglia è molto più radicata di quanto si possa pensare. Sono un mediatore e mi racconto in questa veste. Ovviamente anche l'avvocato è un gladiatore quando è il momento. Ma l'approccio rispetto a certe vicende, almeno qui l'iniziale, deve essere disperatamente mediativo. Non è possibile concepire un avvocato che davanti a dei bambini contesi possa essere il braccio armato di qualcuno che vuole vendicarsi di un torto subito dall'altro coniuge. Non può essere così. Ed ecco perché io rivendico il ruolo sociale dell'avvocato. Io racconto me stesso, ma racconto la categoria. Racconto il ruolo dell'avvocato. Cioè, quel presidio di giustizia, quell'amico su cui fare affidamento, quella persona che ti risponde al cellulare a qualsiasi ora, che è sempre pronto a darti un consiglio. Noi siamo questi. Noi abbiamo un ruolo sociale formidabile e in questa fase della pandemia anche noi abbiamo fatto la nostra parte. Perché i tribunali sono rimasti chiusi, ma noi abbiamo continuato a lavorare. I nostri studi legali non sono mai stati chiusi. Abbiamo lavorato, abbiamo operato giorno e notte. I nostri cellulari scottavano. Siamo stati il pronto soccorso legale. E' questo che racconto in questo mio libro. Ma io ho raccontato già nel primo libro I perplessi sposi del 2011 un'Italia che stava cambiando. Soprattutto sotto l'aspetto familiare. La famiglia italiana non è più un'isola felice come una volta. O quantomeno il matrimonio all'italiana non è un matrimonio indissolubile. Perché tante cose sono cambiate. C'è stato uno tsunami di nuovi valori provenienti dall'Europa che ha travolto i nostri. Ed è evidente che il concetto di unità della famiglia nel bene o nel male è stato compromesso. E questo è dato dai numeri impietosi dell'aumento di separazioni e divorzi. Nel nostro paese basti pensare che ogni anno si consumano 90.000 separazioni e 60.000 divorzi. Che addirittura nel nord Italia ci sono 450 divorzi ogni 1.000 matrimoni. E il dato diventa diverso da Roma in giù perché si parla di 200 divorzi per ogni 1.000 matrimoni. Quindi abbiamo due Italie distinte e separate anche sul versante della famiglia. E' un'Italia che è cambiata. Un'Italia in cui la donna oggi può dire basta. In cui la gente non si pone più il problema di separarsi. Non c'è più lo stigma della negatività rispetto a questo. Devo dire però tuttavia che c'è anche una certa irresponsabilità da parte di alcune persone soprattutto quando sono figli piccoli quando ci sono appunto degli affetti su cui investire tutto se stessi e quando con grande facilità si dice basta invece di tentare di salvare il matrimoni a tutti i costi. Perché io non metto in discussione il diritto di divorziare. È un diritto sacro santo del nostro ordinamento. Dico però che prima di sposarsi e soprattutto prima di separarsi e divorziare uno ci dovrebbe pensare tantissime volte perché la fase patologica del matrimonio che sfocia nella separazione è uno dei più grandi lutti che possono colpire un essere umano. Ma soprattutto dobbiamo tenere presente che il lutto è soprattutto quello che colpisce i ragazzi. Allora io quello che invoco nelle coppie che devo assistere e lo scrivo nel mio libro è quel senso di responsabilità è quella capacità di rimanere genitori anche dopo la crisi coniugale. perché è quello che succede negli altri paesi perché per esempio nei paesi anglosassoni il concetto di padre e madre è molto sentito nel senso che c'è una divisione dei ruoli e non c'è una supremazia di un genitore nei confronti dell'altro. Nei paesi latini purtroppo questo si consuma e spesso uno o due genitori viene un po' abbandonato defenestrato espulso declassato a un genitore di serie B. Io sto combattendo la mia battaglia affinché i figli possano continuare a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambe le figure genitoriali come dicono le convenzioni internazionali. Diciamo che la famiglia italiana non è neanche lontanamente parente a quella di 50 anni fa. Al primo problema si tende ad andare dall'avvocato. Se siamo passati da un eccesso in cui la sopportazione era diventata per gli italiani di un tempo uno stile di vita oggi esiste una insofferenza un'incapacità una immaturità di capire che nel momento in cui ci si sposa c'è un impegno ci sono le difficoltà ci sono i momenti difficili ma è il matrimonio stesso che determina momenti difficili ma è la capacità di andare avanti mettersi in discussione provare riprovare ritentare fino a quando non succedono fatti insopportabili in tutti gli altri casi è un dovere tentare salvare la famiglia e detto da un divorzista è tutto dire perché io conosco benissimo qual è il dolore di tante persone qual è il disagio di tante persone e devo dire che non sempre chi lascia ragione e non sempre chi lascia ha capito qualcosa nel matrimonio una storia che mi ha colpito è la storia del difficile rapporto di un padre con un figlio gay un padre che è padrone che voleva che il figlio seguisse le sue orme in tutto e per tutto e a un certo punto scopre che il figlio è omosessuale c'è quindi un disagio tremendo di quest'uomo che non riesce a elaborare questa notizia e a un certo momento si scontra con l'intera famiglia che invece fa quadrato attorno al loro congiunto parlo dei fratelli e della mano è una storia che mi ha fatto riflettere perché anche a certi livelli sociali se così si può dire ci possono essere delle forme di omofobia all'interno della stessa famiglia l'espulsione dell'omosessuale da un contesto familiare l'umiliazione tutto questo indubbiamente è un fatto molto frequente non pensiamo che sia soltanto una storia del mio libro è una sottocultura che tende a sostenere che l'omosessualità sia una malattia un'altra storia che mi ha particolarmente colpito in questo libro è la storia di una donna che a un certo momento dopo anni di angheria da parte del marito si innamora di un altro e questo uomo fa di tutto per fargliela pagare e utilizza la bambina come strumento per vendicarsi per cui ne chiede l'affidamento esclusivo sostenendo che l'infidelità coniugale di per sé fosse comunque un indice di pessima genitorialità è un po' quando io in un altro libro dovetti difendere un padre omosessuale perché qualcuno aveva detto che l'omosessuale di per sé non può essere un buon genitore allora io spiego in questo libro che bisogna scendere la coppia genitoriale da quella coniugale sono due momenti completamente diversi poi c'è la storia di un ragazzo che praticamente è stato abbandonato dalla madre una donna anaffettiva ed è cresciuto con il padre e si questo ragazzo si confessa racconta l'anaffettività di questa donna l'incapacità di avere pietà verso un figlio e tutta questa vita vissuta da orfano di madre viva che lo ha completamente segnato insomma io nel mio libro racconto violenze di ogni tipo da entrambi i genitori racconto quello che vedo tutti i giorni e poi ci sono tantissime storie ovviamente anche quella di una falsa denuncia di un noto professionista di Milano che subisce la denuncia di pedofilia da parte dell'ex moglie la quale attraverso questa denuncia cercò di vendicarsi perché questo uomo si è innamorato di un'altra la vendetta utilizzando i figli avviene sia da parte dei padri che delle madri ed è un qualcosa che deve finire perché una storia può finire ma si è genitori per sempre insomma lo dico in tutti i modi tra l'altro sempre con un linguaggio molto semplice ho evitato anche questo libro inutili tecnicismi giuridici e invito sempre tutti a ragionare sempre tutti a sedersi al tavolino valutare la situazione con freddezza perché questa è una materia che ha bisogno di razzocino negli altri paesi la maggior parte delle separazioni o dei divorzi soprattutto avvengono in maniera non dico indolore ma quasi cioè si prende atto che è finito un percorso noi drammatizziamo molto noi siamo latini noi siamo mediterranei ma in Inghilterra quando due persone si lasciano addirittura organizzano la festa chiamano i parenti a raccolta gli amici sono le bomboniere del divorzio cioè non ci si rinnega non ci si odia non ci si fa del male si rimane amici e questo è un qualcosa che vorrei ci fosse anche in altri paesi anche in Italia ma attualmente la situazione non è culturale non ce lo consente ma prima o poi si arriverà a capire che il divorzio non è né una vergogna né un'umiliazione e non può essere motivo di vendetta finisce un percorso basti pensare che per esempio negli Stati Uniti c'è gente che si sposa 6-7 volte nella vita che cambia 5 lavori che cambia 6 città la vita è fatta di svolte ci sono dei capitoli noi in Italia vogliamo tutto per sempre lo stesso lavoro la stessa città la stessa donna lo stesso uomo le stesse abitudini negli altri paesi quelli anglosassi si cambia continuamente a 10 anni se una persona a 20 o un'altra a 30 a 40 a 50 ci sono altre vite che nascono è tutto senza dei contraccolpi particolari è molto più difficile negli altri paesi il delitto tra virgolette d'onore la vendetta l'acido per carità la provenienza dappertutto ma noi latini non riusciamo a capire che la scelta di finire un rapporto può essere una scelta difficile dolorosa ma in qualche modo non deve giustificare le guerre dei rossi non riusciamo a capire